Il secondo elemento importante che voi trovate in questo testo è il fatto che Dio agisce nella storia. Chi è dunque Yahweh? Yahweh è un Dio che si trova tra gli uomini e agisce nella storia. Ti ho fatto uscire dalla terra di Mitzraim. Mitzraim è la seconda parola della seconda riga. Questo è il nome che aveva l'Egitto allora, Mitzraim. Dalla casa dei servi. Non era la casa dell'emigrazione dove uno può far carriera. Uno su mille ce la fa. Giuseppe ce l'ha fatta. E insieme con lui diversi altri notabili che vengono da Canaam e dalla Siria. Ci sono i nomi nelle iscrizioni egiziani. Sotto questo profilo gli egiziani non è che fossero razzisti. Se una persona meritava faceva carriera. Per gli ebrei Mitzraim è stata solo casa di servi. Cioè nessuno di loro dopo Giuseppe ha fatto carriera. Ma la cosa più importante di questo testo, oltre che a darmi la definizione di Dio, mi dice un qualche cosa di estremamente sottile. Tu hai fatto esperienza di Dio. Sai chi sono. Sono uno che ti ha preso per mano e dalla casa dei servi ti ha portato alla libertà del deserto. Dove tu hai potuto decidere dove andare, che cosa fare, come impostare la tua vita, mentre in Egitto questo non potevi farlo. Quindi, è come se questo versetto nella nostra cultura occidentale dicesse così Io e te ci conosciamo bene. Tu sai chi io sono. Hai fatto esperienza di me che è un'esperienza fondamentalmente di liberazione. Quindi sai come ragiono. È questo che Dio sta dicendo. Noi leggiamo materialmente il testo così, però per un orientale leggere un testo del genere ha un'equivalenza occidentale, più o meno come io ho cercato di spiegarvi. Dunque, cosa abbiamo noi in questo breve versetto? Ho detto tre cose. Primo, la curiosità grammaticale. Il verbo essere come copula non c'è. Il verbo essere indica per lo più trovarsi, esserci. Seconda cosa, Dio vive tra la gente, è presente tra la gente, si trova tra gli uomini. Non lo trovate di qua, di là o della via, non nel sogno mistico, non nella grandezza del firmamento, ma vedendo la povertà delle persone, le virtù delle persone, i difetti delle persone, gli avvenimenti che le persone mettono in piedi. Lì c'è Dio. Certamente questa visione può sconcertarci, ma questo è ciò che il testo scrive. E poi, cercate Dio negli avvenimenti. Lì lo potete trovare, lì fate esperienze. Avvenimenti, non concetti. Io vi sto dando concetti. L'esperienza di Dio la fate fuori da questa stanza. Questo dice il testo ebraico. E quindi, impari a conoscere questo Dio, che non è un Dio concettuale, ma è un Dio esperienziale. Scopriremo, infatti, che esiste una sola definizione di Dio nel mondo biblico, e la trovate alla linea 63. Ci torneremo sopra. ditemi se questo è un concetto. Dio è amore. Quando voi riducete l'amore a un concetto, non sapete più che cos'è l'amore. L'amore è un'esperienza. offerta e accolta. Ma quando voi avete tentato di dare una definizione dell'amore, l'avete ucciso. bene. Abbiamo dato una spazzolata a questo primo versetto che è il fondamento dell'impegno morale successivo. Tu fai esperienza di me nella storia. L'esperienza che hai fatto è un'esperienza di liberazione. Sai chi sono? Dunque, adesso io posso farti una proposta ulteriore. logica di questo semplice versetto. Qual è la prima proposta? Vediamo di leggere il testo in italiano che è vicino all'ebraico perché la materialità esatta dell'ebraico è quasi impossibile da rendersi. Non ci sarà per te non altri dei ma altro Dio di fronte a me. Lettera A dell'ebraico leggendo da destra a sinistra voi trovate il primo rettangolino il verbo essere. Chi ha fatto quei famigerati 15 giorni di ebraico con me fine giugno primi di luglio del 2015 sa che la radice è Hayah e il primo Yot che invece si trova a destra cioè quel virgoletta in alto è il segno della terza persona singolare maschile perché che vi piaccia o meno gli ebrei rispettano l'uomo e la donna noi invece abbiamo i verbi unisex io sono tu sei quel tu sei serve per le maschietti che per le femminucce in ebraico scordatevelo il tu sei è maschile e ha una forma e il tu sei femminile ne ha un'altra e così in questo caso egli sarà o ella sarà ha due forme diverse questa è la forma maschile ma ricordatevi che il verbo essere vuol dire trovarsi e quindi non ci sarà per te lecca elohim acherim formalmente è un plurale ma il verbo è al singolare dunque cosa sta dicendo? non sta dicendo non ci saranno per te altri dei perché per l'ebreo è assolutamente impensabile che possano esistere due infiniti e se Dio c'è è infinito e se è infinito ce n'è uno solo mi capite? così logico perché Don Renato non possono esistere due infiniti a me sono venuti giù i goccioloni di sudore da mezzo litro per ogni goccia dico ma gasto un fiato di testa lì dove c'è un infinito non c'è l'altro e allora l'altro non è infinito per questo due infiniti non possono esistere ci siamo? e allora per l'ebreo il problema degli altri dei a livello teologico a livello teologico neanche non si pone si pone l'alternativa di un altro Dio o è Yahweh che esiste oppure questo non esiste ne esiste un altro e siccome Dio veniva chiamato Elohim e Im è il plurale maschile i nostri amici che ha fatto il corso di ebraico hanno imparato questo che mentre in italiano abbiamo il grado dell'aggettivo cattivo peggiore pessimo in ebraico c'è anche il grado del nome noi abbiamo il peggiorativo casaccia diminutivo casina veseggiativo casetta loro hanno il superlativo casissima e per dire casissima tu hai una casissima cioè una casa immensa loro dicevano tu hai le case facevano al plurale e quindi dire Elohim bisogna vedere il verbo se il verbo è il singolare vuol dire diissimo Dio che più Dio non si può se invece il verbo ha il plurale vuol dire dei in questo caso Dio cosa sta dicendo non ci sarà per te un altro diissimo cioè uno uguale a me perché noi diciamo gelosia di Dio non è così Dio Dio sta dicendo tu con me hai fatto esperienza sai chi sono con altri non hai fatto esperienza scegli scegli un Dio con cui hai fatto esperienza lo ha appena detto e quindi cerca di sapere chi è il Dio con cui ti accompagni capite perché questa logica non è qualche cosa che privilegia Dio ma dà lo svegliarino all'uomo in altre parole non essere scemo quando credi vi è chiaro? di questa divinità non farti nessuna immagine di questo dissimo che tu scegli di adorare nessuna immagine questa dicitura è ambigua perché potrebbe dire così significato elementare nel mondo orientale l'immagine era la divinità conteneva la divinità e quindi farsi un'immagine di Dio voleva dire localizzarlo ma anche imprigionarlo Dio non lo può imprigionare se è infinito e questo noi lo possiamo scoprire nel capitolo 33 dell'Esodo quando Mosè dice a Dio mostrami la tua gloria e Dio dice stai attento che tu non mi puoi vedere perché se mi vedi schianti l'infinito non può star dentro la capoccia finita e allora rimostra le spalle si vede che Dio aveva delle spalle belle come le attrici chi lo sa dunque nessuna immagine perché questa immagine imprigiona Dio e Dio è infinito quindi c'è una sproporzione fra la tua pretesa di vederlo in una immagine e la sua vera identità ma poi sotto c'è un'idea ancora più fine e molto più teologicamente vicina alla mentalità orientale abbiamo appena visto nella linea 37 che Dio è in mezzo alla gente e si manifesta nella storia opera nella storia e quindi fin quando la storia non è finita tu non potrai avere un'idea definitiva di Dio dunque un'idea di Dio tu non la puoi avere perché lui è infinito e tu sei finito ma poi c'è anche una ragione economica una ragione semplicemente di prassi fino a quando la storia non è finita poiché Dio agisce sempre nella storia tu Dio non potrai mai conoscerlo del tutto e quindi di lui non ti potrai fare mai un'immagine definitiva perché come Dio si è comportato fin adesso non è detto che si comporti così anche domani con te e quindi fino a quando c'è storia il tuo compito è aprire gli occhi e capire non chiudere Dio dentro a una definizione che può essere una scultura un'immagine fusa un dipinto un concetto ed è questo il grosso problema della nostra definizione filosofica di Dio una buona filosofia arriva a dimostrarne l'esistenza a dire che c'è ma non a dire chi è e tutti coloro che pretendono di dire chi è Dio capite che sono fuori da ogni logica a meno che non siano mistici allora qui abbiamo un altro tipo di logica che non è razionale è altrettanto vera ma non è razionale ma l'esperienza del mistico serve a lui non a me perché ha convinto lui non ha convinto me non l'ho avuta io di conseguenza comprendete bene quanto sia delicato affrontare il problema di Dio noi siamo abituati a certi cialtroni che parlano in televisione o alla radio ma quando tu vuoi affrontare con i guanti del chirurgo il problema di Dio ti accorgi che certe stupidaggini che vengono dette non stanno né in cielo né in terra nella razionalità dell'uomo sono degli slogans ma non è detto che dietro uno slogan ci sia una verità dunque la linea B di la linea 43 ci avverte benissimo non farti immagini no perché l'immagine tu non possa fartela te la fai e buonanotte non succede niente ma devi capire che quell'immagine è semplicemente un rimando non contiene un ben niente e quell'immagine se per certi aspetti ti aiuta per altri ti imprigiona in un'idea di Dio che ti impedisce di vedere la sua vera identità quindi di fronte alle immagini molta tranquillità e scioltezza adoperiamola pure ma teniamo presente queste due cose Dio non è così noi abbiamo questo vecchio con la barba che tocca il dito di Adamo nel bellissimo soffitto della cappella Sistina tu resti lì e guardi e guardi e guardi e guardi bellissimo esteticamente un capolavoro una capacità emozionale forte evocativa altrettanto bene Dio è Gansandre Dio è tutt'altro hai un crocifisso ti commuovi va bene ma Dio è altro Gesù Cristo è altro linea F non ti prostrerai davanti a loro non ti prostrerai davanti a lui non servirai loro non servirai lui tenete presente quel plurale che abbiamo visto di sopra e adesso vediamo la motivazione perché io Yahweh Dio di te poi in ebraico quelle parole non ci sono per queste sono sbiadite Dio geloso El Cana Cana è la prima parolina della lettera H perché io Yahweh Dio di te Dio geloso punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione parola generazione non c'è in ebraico è sottintesa e qui abbiamo un fatto che conosciamo benissimo e cioè la personalità corporativa quindi il padre sbaglia il figlio paga paga anche il padre paga anche il figlio paga anche il nipote e paga anche il pronipote era una forma di giustizia che nel mondo orientale di allora purtroppo esisteva ma contemporaneamente in modo felice questo concetto viene radicalmente tolto dalla predicazione di Ezechiele Ezechiele è un profeta del sesto secolo avanti Cristo quindi è dal sesto secolo avanti Cristo che non esiste più la personalità corporativa 550 anni prima di Gesù Cristo Ezechiele dice non è più valido non è più valido il proverbio i padri hanno mangiato frutti acerbi e i denti dei figli si sono allegati e lui predicherà per tutta la vita la responsabilità individuale questo significa che il decalogo è nato molto prima del sesto secolo tenete però presente che questo concetto di personalità corporativa esisteva ancora ai tempi di Gesù davanti al cieco di Gerico i discepoli diranno chi ha peccato lui o i suoi genitori un'idea teologica impegnativa fa tanta fatica ad entrare dentro nella cultura teologica popolare dire che il senso di colpa non appartiene al cristianesimo è un'idea impegnativa che fa tanta fatica ad entrare dentro nelle nostre teste probabilmente perché non prendiamo sul serio la morte di Cristo è morto buonanotte chi se ne frega no non è questo il concetto se lui è morto per fra virgolette pagare per noi è chiaro che io non ho nessuna ragione di essere legato a un senso espiatorio nei confronti del male che ho fatto ha già espiato lui che facciamo espiamo in due che senso ha all'uomo aspetta cambiare testa non perder tempo a espiare dal momento che la cosa è già stata espiata davanti a Dio l'uomo è chiamato casomai a riparare il male che ha fatto ma non a espiare il caffè è sacro non a espiare non a espiare la mia ha fatto la mia luce è stata la mia